Palla che colpisce la traversa e torna in campo, non riesce a bloccare, attenzione Vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare una per gli avversari E' ancora presto però per cantare vittoria E si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare Devono fare attenzione a non subirne altre intresate Non facile per quanto si è visto finora Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0